Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovissimo video oggi ragazzi Pariamente, visto, allora, io ho cambiato il nuovo telefono Questo è il mio nuovo telefono, mi ha fatto azzerare tutto, ho già messo il nome E... facciamo una partita, vi devo dire Iscrivetevi al canale, lasciate tanti mi piace, tanti like Ovviamente la cosa più economica è iscrivetevi al canale perché a voi non fa niente Ma a me fa un grandissimo favore Iniziamo Allora, iniziamo a giocare su questo Allora, bisogna trovare dei coneggi Partiamo subito Con la prima mia partita di questo Nuovissimo Attento Allora, bisogna trovare dei coneggi Allora, bisogna trovare dei coneggi No, non ci No, non ci No, non ci No, non ci Mi fa riferimento, mi fa riferimento Allora, di filare mi fa riferimento Allora, bisogna trovare dei coneggi Allora, scrivete nei commenti, se volete, se vi piacciono tanto questi tipo di video Ce ne porterò, ce ne porterò altri Che basta che voi siete Allora, bisogna trovare dei coneggi Allora, naturalmente io lo faccio Ovviamente da tanto Non ci giuro Io mi vado La prima volta che l'hanno visto Allora È stata una cosa di assurdo La prima volta che l'hanno visto Ok, guarda Qualific Siamo rimasti in otto Ah, blocchie d'ascito Ultima Bello, bello Due sopravvivenze di seduto Bello Buonissimo Per ora Inel Regà, scusate Ci sono anche io C'è anche il Francisco Iscrivetevi Anche al canale di Francisco Non avevi segnato il tuo nome Ehm, il Francisco Non me l'ha fatto rompere Non lo so perché Allora, guarda No Chi non sa Chi non sa Chi è Francisco Francisco È mio fratello Gemello Andate a vedere I miei vecchi video Miei Iscrivetevi al canale di francesco Si chiama Francesco 13 Vabbè, allora Se avete visto I vecchi video Già lo sapete Come si chiama Vabbè, allora Questa partita L'ho persa Non fa niente È la prima partita Allora 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 Dove prendere Prima di compense Gli scuoti Ua, 75 Allora Quanti ne tendo ora Allora Ne tendo abbastanza No Non è vero Ma ne tendo un sacco Deve essere a mille E a mille Allora facciamo un'altra partita ora se non non vi scrivete perché io so che la maggior parte che guarda i miei video non è uscita il canale che fate? iscrivetevi ovviamente a voi non cambia niente ce l'ho detto prima fa un grandissimo un voglio mi vedete tutto come la morte mannaggia ma no già sono morto scusate per l'annabezza allora ragazzi oggi sono un volettino scarso ma ora divento super forte soia allora mamma mia quanto tempo ci vuole allora non si ferma più ok no questa è una mappa d'odio è una mappa di nabbi se no è il sito dei nabbi forse allora io vedo dei nabbi vedo alcuni che si chiamano ancora slayer ma sono molto forti non è una mappa di nabbi se non è un sito di nabbi ci sono i forti ma io anche se ci sono i più forti del mondo mi qualifico patrizia non mi si chiama patrizia 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 dopo giriamo la ruta per vedere vedere non toccare il colore chi lo sa dopo facciamo la sfida ora scusate se non so fare te già non ci giuro da un sacco di tempo poi pure un nuovo count mi devo abituare e mi devo abituare su quelli stassi allora io mi ero abituato sui mie stili scusate rara sono le mie colpe ok rara allora per ora va bene va molto ma molto bene allora di nuovo finale mi fa una paura alla finale esagerata no cosa ho detto si sta per bruciare no mi è assodata mi è assodata in un modo clamoro no 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 raga no ho perso in un modo che non dovevo perdere no raga scusate la mia labbezza sono scarso rara senza che me lo dite i commenti me lo dico io da su allora la sfida ovviamente però che me lo dimentico di nuovo che è successo vabbè anzi ora se questo video raggiunge i i i 50 mi piace faccio il video allora però farà nulla io faccio il cibo tipo uscire capitan pirata ragazzi ma disini se non è vero che questa leggendaria sembra fere vero scusa fere ma sembri tu con i tuoi capelli sembri tu scusate scusate male ora abbiamo un po' mappa abbiamo un po' brocci d'asci messi insieme laser brocci d'asci se sbaglio si chiama o d'asci d'asci o d'asci o d'asci o d'asci o d'asci o d'asci l'asci l'asci ora vediamo subito l'asci da a bene lascio allora no 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 stavol stavol Stavo rischiando in un moto Stavo rischiando in un moto Stavo rischiando in un moto troviamo un rosso no 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 ma hanno fatto un buco da dentro stavolta che siamo andati troppi no 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 mi sono pesato mi fanno una paura il laser sono giocato ovviamente sono abituale cosa succede ah no no ditemi su su giù nei commenti i vostri nomi di StumbleGuys ah mi sto dimenticato pure ora di cambiare il nome qui tan 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 questa da vincere questa da vincere ho paura si ci ho fatto finale finalissimo è ora di vincere si la finale è la più complicata arriviamo fino alla fine arriviamo al quarto livello chi lo sa allora se arriviamo qui l'ho detto pure prima se arriviamo ai 50 mi piace porto un video dove non devo toccare i colori che essono nella ruota nella ruota nella ruota della fortuna ovviamente no rara nella finale sono morto no che brutto rara per perdere nella finale dove si poteva fare tutto dove poteva si tutto rara gioviamo la ultima partita quest'ultima partita me la voglio giocare benissimo ma più bene non si può ovviamente sei bloccato no rara mi sono sottostante Amazon provi offerte da sogno per pubblicità vantaggi favolosi in principale rara allora ditemi scusate per pubblicità la rara c'è figura di rara allora ditemi se anzi a voi essono pubblicità a me un botto di pubblicità pubblicità mi sono un casino mi fanno mettere paura le pubblicità mi fanno mettere paura veramente allora però ho paura se gioco un'altra partita allora allora andiamo nel negozio non posso fare niente giriamo una partita e l'ultima partita del gioco vabbè 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 è rara giocista fantastica fantastica poi questa skin rara del pirata vi saluto vi saluto e ci vediamo prossimo video ciao